Ciao da Svideo! Allora, riassunto del quarto live, ossia la quarta puntata di X-Factor Allora, subito parte Catteland che arriva con questa giacca scintillante tra il fucsia, magenta, violetta, traluciccante che veramente stavo mangiando le patatine, a momenti mi vanno di attraverso le patatine a guardare la sua giacca Comunque, dopo lui ha presentato i giudici! E mi ha fatto morire da ridere perché sulle notte della storia infinita, Never in the Story sono arrivati Mika e Fedez vestiti da Batman e Robin veramente in versione anni 60 Certo, troppo ridicola come cosa, però molto divertente, molto divertente C'è stato questo ospite, Giorgio Moroder Praticamente lui è quello che ha fatto colonne sonore come Flashdance, La Storia Infinita ha fatto Top Gun, ha fatto un sacco di roba, cioè un sacco di colonne sonore quindi è un grandissimo, è fantastico e quindi la puntata di stasera, cioè di ieri sera, era dedicata, diciamo, alla dance, dance elettronica, insomma, vabbè una puntata un po' elettronica, tra virgolette, dance, dance piccaltro Catelyn ha anche detto che poi Moroder, alla fine, con il brano del cantante che vincerà X-Factor insomma, ci fa un remix Moroder quindi sarà una cosa molto interessante Comunque, vai con la gara Allora, la gara, la prima a partire è stata Enrica Enrica del gruppo di The Skin Allora, Enrica si esibita, vabbè, c'era questa scenografia con questo divano e ballerini vestiti come il divano molto carino l'effetto Ha portato la canzone Burning Up di Jessie J e devo dire che, secondo me, è sempre più brava cioè, veramente divertente, come si muova e come si balla come la vive proprio sul palco quindi, e anche loro, anche i giudici, sono stati soddisfatti anche Mika proprio la guardava con una faccia per dire, ma da dove sei venuta? ma chi sei? Sei una donna, cioè, sei cambiata cioè, come dire, diventi sempre meglio diventi sempre più pazzesca e niente poi anche i vari commenti degli altri giudici insomma, sono stati... è piaciuto, insomma, un po' a tutti Enrica, Enrica sta migliorando sempre di più e devo dire vi ricordate che avevo fatto la miniatura per chissà chi vincerà X Factor che io avevo incluso Enrica, Luca ci avevo messo Josada Urban Strangers no, questi quattro avevo fatto la miniatura chissà che poi non si avveri questa roba e che ci vadano proprio loro quattro in finale boh, vedremo comunque, vabbè dopo Enrica c'è stato Davide del gruppo di Elio che ha cantato Things Can Only Get Better di Howard Jones insomma, cioè lui canta sempre veramente bene poi è forte come tiene il palco eccetera però devo dire nella scorsa puntata mi sembrava che a cantare certi pezzi quando li sente più suoi c'è più dentro e tutto comunque indubbiamente se dovessimo dargli un giudizio tutto che cioè positivo al massimo indubbiamente indubbiamente però io lo preferisco in altri generi lo so che questa cosa l'ho detta è più ripetuta in questi riassunti però ovviamente questa puntata qua era quella dense quindi devo cantare cose del genere poi è stata la volta degli Urban Stranger quel duo di ragazzi che vengono da Somma Vesuviana mi pare che si chiama la città da dove vengono beh comunque praticamente loro come pezzo hanno portato Numb & Core del Linkin Park rivisitata da loro anche con delle loro della partitura delle parti rap scritte appositamente da loro devo dire che allora la loro performance che dopo a un certo punto c'erano questi muri che battevano nella scenografia quindi molto particolare come scenografia eccetera allora diciamo non l'ho trovata del tutto a fuoco come cosa nel senso che mi è piaciuto molto nella parte rap forse più debole nella parte vocale poi non cioè non tutto completamente a fuoco quindi nonostante come cosa si vedeva si vedeva veramente che avrebbero potuto fare ancora ancora meglio come cosa comunque mi sono piaciuti abbastanza devo dire però però si vocalmente a volte non sono fortissimi ma devo dire come parte rap io penso che dovrebbero dare potrebbero dare un brano di Eminem da cantare io ce lo vedo quel biondino lì a cantare un pezzo di Eminem vedremo vedremo se gli danno qualcosa del genere poi mica ci ha presentato Luca Luca ha cantato Louis on my mind che è un brano di Elvis Presley però rivisitato nella versione dei Pashot Boys allora lui ha cercato Luca di tenere la stessa tonalità del cantante dei Pashot Boys facendo questo secondo me ha tenuto molto molto basse le note della della performance devo dire che forse è la volta che mi è piaciuto di meno Luca nonostante me la sua voce piace da morire piace da morire e quindi nonostante tutto non penso sia stata una delle sue performance migliori direi che ha cantato male però assolutamente no però rispetto le cose che ha cantato le altre volte secondo me è stato un pochino un pochino peggio eh Lucchino Lucchino allora poi ci sono stati i Landlord i Landlord che hanno cantato Promises di Nero allora Fedez ha avuto questa bellissima idea di dargli una canzone che è un po' stile dubstep e nonostante i giudici in puntata gli hanno detto di cotta e di cruda è Landlord a me invece è piaciuta la follia a me è piaciuta tantissimo anzi forse è la volta dove mi sono piaciuti di più il Landlord quindi veramente i giudici nessuno ha gli stessi giudizi insomma mica sempre io li ho trovati perché siccome lei ha questa cantante ha questa voce un po' sottile che non è una voce fortissima su una base dubstep ce la vedevo bene a fare quelle specie di strofe ritornelli senza molto io la trovavo adatta musica incredibile veramente suonata molto bene da tutti i musicisti della band quindi stavolta stavolta in questa puntata il Landlord mi sono piaciuti molto 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 anche se i giudici poi in puntata non ne hanno parlato molto bene prima del risultato del ballottaggio c'è stato il secondo ospite il primo abbiamo detto era stato Giorgio Moroder come secondo ospite ci sono i Five Seconds On Summers ci sono stati che è un gruppo australiano che ha cantato Hey Everybody che io e mio fratello ci dicevamo ma avrà chiesto i diritti ai Duran Duran visto che c'è questo pezzo molto simile a quella canzone dei Duran Duran dunque è Rio perché c'è un pezzo che sembra proprio però il mio fratello mi diceva ma no ma magari hanno chiesto i diritti per campionare quella parte di brano perché c'è una brano molto simile in Hey Everybody che somiglia molto a una canzone dei Duran Duran va bene niente pazienza comunque va bene la canzoncina loro è molto divertente poi c'erano tutte queste ragazzine che piangevano quando vedono questi gruppi di ragazzi bellocci vabbè dai normale così dai allora comunque hanno passato il turno Enrica Davide Urban Stranger i Landlord chi è andato al ballottaggio è andato Luca io veramente avevo una paura incredibile come no Luca no 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 e vabbè dai ragazzi comunque magari serve anche di lezione per per stare carico e fare sempre meglio magari può servire anche per questa cosa è comunque iniziata la seconda manche e della seconda manche la prima a partire è stata Margherita a Margherita hanno dato la canzone Taint and Love Taint and Love dei Soft Cell che poi hanno rifatto un sacco un sacco di gente anche Marilyn Manson ha fatto una versione mi sembra comunque veramente un mare di gente ha fatto questa canzone allora io veramente io mio fratello e gli altri ci siamo guardati e hanno detto no un po' un po' piatta un po' piatta come esibizione devo dire non dire che l'ha cantata male no però almeno cerca di farle con un timbro non lo so un po' più un po' più graffiato un po' più particolare un po' cioè Taint and Love è quasi un amore sporco insano cioè nella canzone dicoci le frasi tipo non toccarmi per favore non posso sopportare il modo in cui ti prendi gioco di me ti amo nonostante tu mi faccia del male ora è giunto il momento di prendere le mie cose e di andarmene andarmene via quindi è una canzone che secondo me devi darci un po' di senso a quello che stai cantando e dicendo e invece era troppo troppo distaccata dal testo dopo ci sono stati Mossick il gruppo di Fedez gli ha dato un brano che io proprio non conoscevo per niente che si chiama Revolution di Elephant e niente mi ha un po' spiazzato come cosa ascoltare questa cosa sapete quando si ascolta le prime volte però devo dire che c'è La Rossa mi ha convinto non mi ricordo se si chiama Elisa lei la cantante comunque veramente mi è piaciuta un sacco cioè questa cosa era molto strana Revolution Revolution nel ritornello poi molto particolare e anche la sua voce era adatta al tutto quindi ho trovato questa cosa strana ma mi è piaciuta molto devo dire che in questo brano i Mossick mi sono piaciuti e devo dire che era anche molto particolare come era vestita la cantante dei Mossick con questo vestitino giallo che gli copriva poco le tette diciamo dopo c'è stato Leonardo cantante di Mika al cui hanno dato la canzone Only You degli Yasu vabbè ragazzi cosa posso dire vabbè nella scenografia lui ballava che c'era questo robot che faceva la break dance non proprio la break dance comunque si muoveva da robot giustamente ballo robot non mi sembrava una canzone così difficile no quindi vabbè dai bravino bravino potevano dargli qualcosa di diverso ma sì dai ci stavano hanno detto che gli volevano dare qualcosa di dolce qualcosa di non troppo va bene comunque dopo chi c'è stato c'è stato Josada Josada che ha cantato una canzone dei Divo Divo Devo leggetelo come volete Devo Divo no Divo Divo Elio diceva Divo comunque che è un gruppo molto particolare non so se lo conoscete comunque ha cantato Girl You Want e devo dire che lui mi è piaciuto tantissimo Josada mi è piaciuto tantissimo perché soprattutto per la performance che in sé come si muoveva sul palco c'è questa giacca argentata vabbè un po' ma giustamente puntata dance un po' anni passati però è una forza della natura e bisogna dire che sul palco rende benissimo poi io continuo a dire mi piace molto il suo timbro vocale di voce quindi grandissimo Josada Josada perché fa sempre la sua porca figura sul palco grande grande Jos complimenti al termine di questa mancia c'è stato il ballottaggio e di questo ballottaggio c'è andata Margherita quindi cosa è successo che Luca si è dovuto scontrare con Margherita Luca ha cantato Say Something di Angry Big World mentre Margherita ha cantato Alleluia allora devo dire è partito Luca ed è partito benissimo quando canta le canzoni che sente sue Luca ci mette un impegno incredibile e senti proprio ti comunica ti trasmette molto tramite le parole che canta eccetera quindi gli ha dato in quei pochi minuti che ha cantato è riuscito a darci un'emozione infinita e quindi secondo me va già la vittoria in pugno infatti dopo ha cantato Margherita ha cantato Alleluia io mi ricordavo già i provini che l'aveva portata e devo dire che l'aveva cantata molto bene invece nella serata che c'è stata lì della live ha mangiato un po' le parole si è lasciata forse un po' vincere dall'emozione non l'ha cantata neanche benissimo diciamo quindi i giudici alla fine stavano premiando di più perché alla fine sapete devono decidere i giudici però cosa è successo stavo dicendo stavano premiando di più la performance di Luca ma alla fine Fedez è stato l'ago della bilancia l'ultimo che doveva decidere qualcosa quindi se diceva uno o l'altra Fedez ha deciso di andare al tilt quindi di non dare ha deciso in maniera che si andasse tutto al tilt e che si decidesse si decidesse a casa quindi da casa c'è stato il voto e alla fine ha vinto Luca quindi Luca rimane perché Luca deve vincere però ragazzi sono conscio che Luca sia bravo però sono fortissimi per esempio un Enrica la vedo molto bene Giosada lo vedo molto bene sono bravi anche gli Urban Stranger però sul palco secondo me ci fanno delle imprecisioni peccato peccato però secondo me si lotterà tra questi però io ho una simpatia incredibile per Luca mi piace molto anche Enrica chiudiamo qua ciao 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 da Svide grazie a tutti